Cosa è successo? Tutto qua. Il resto non so niente, amore. Ma li conosceva? Sì, conoscevo la signora, ma solo passava, salutava, molto gentile. Ma il resto non so niente, non so niente. So che era separata, sì. Però, non so, ha due figli, poveretta, mi dispiace, è una brava signora. Per i culi, faceva per i culi. E allora io siccome che ho un'unghia che mi fa male, nient'altro. E lei me la metteva a posto. E com'era sta signora gentile? Gentilissima, no? Gentile. Ma viveva con le figlie qui? Ma il marito lei non l'ha mai visto? L'ho visto due o tre anni fa. Che era il padre delle figlie? Presumo di sì, ma io non sono mai entrato nei particolari. Ma ci sono stati litigi prima? Aveva mai sentito momenti di tensione in questi anni? Ma ieri sera avete sentito rumori? No, no, ieri sera, siccome che sono poco maniaco, maniaco nel senso, tutta la verità a mezzanotte, e vengo fuori a vedere se il caccio è chiuso. E ho visto tutti i carabinieri e tutta la bohazza, e ho visto cosa è successo qua. Però questo è quello che so, non so più altrimenti. E cosa le hanno detto? No, no, non ho parlato con i sogni. Lo so che ho visto, ho visto cosa sarà successo. Questo mi sono chiesto, dopo ho visto, sono dentro e questo è quello che so. Grazie.